Giulia Salemi, nessuna crisi con Pierpaolo Pretelli, mi ha sempre capita Pierpaolo Pretelli e l'influencer non hanno chiuso la loro storia, ecco tutta la verità Da settimane ormai circola insistentemente il rumore inerente ad una presunta rottura tra Giulia Salemi Ed il suo compagno conosciuto nel periodo in cui ha partecipato al grande fratello VIP vinto da Tommaso Zorzi Dopo tante chiacchiere è finalmente arrivata la smentita, anche se non direttamente Difatti la giovane ragazza, in un lungo post pubblicato direttamente sul suo profilo Instagram In cui ha voluto fare il punto della situazione su questa stagione televisiva in cui è stata protagonista Ha ringraziato sentitamente il suo compagno perché ha saputo capirla e supportarla tante volte Tutto questo non sarebbe possibile se accanto non avessi un uomo che mi capisce, mi supporta Ma soprattutto mi sopporta in tutti i miei sbalzi di umore Giulia Salemi, il suo compagno prova una profonda stima nei suoi confronti Meriti tutto Tra i tanti commenti arrivati sottostanti questo post pubblicato dalla giovane influencer C'è anche quello del suo compagno Pierpaolo Pretelli, il quale ha rivelato di provare una profonda stima nei suoi confronti, soprattutto per la tante dedizione che ci ha sempre messo per cercare di raggiungere i suoi traguardi Meriti tutto questo per la dedizione e la passione che ci metti Parole che insomma non hanno lasciato alcun dubbio sul fatto che tra loro ci sia il sereno al momento, e che qualora ci fossero mai stati dei problemi adesso pare essere davvero tutto gettato alle spalle Ovviamente i tanti fan della coppia, i cosiddetti prelemi, non hanno potuto far altro che esserne felici La giovane influencer sempre più lanciata nel mondo della tv, la confessione del suo compagno Successivamente Pierpaolo Pretelli, sempre in questo suo intervento Instagram, non ha fatto mistero di essere altrettanto certo che con la dedizione la sua fidanzata Giulia Salemi, la quale è sempre al centro dei gossip per quanto riguarda la sua vita privata, potrà assolutamente ambire a raggiungere obiettivi ancora più importanti nel corso dei prossimi mesi Con la determinazione che ti contraddistingue arriverai ancora molto lontano puoi starne certa P.S. Amore omnia vincit L'amore vince ogni cosa E anche i tanti prelemi si sono uniti agli auguri del suo fidanzato, nella speranza che tutti i suoi desideri possano ben presto diventare realtà una volta per tutte Si segnala che la giovane, proprio nelle ultime ore, ha anche voluto dedicare un pensiero a Silvio Berlusconi, morto oggi all'età di 86 anni, dimostrando ancora una volta la sua piccata sensibilità A Silvio Berlusconi, morto oggi all'età di 80 anni, dimostrando ancora una volta la sua